Ciao a tutti e bentornati nel canale di Shariman, oggi con un nuovo videogioco che con tutta probabilità vi porterò soltanto una volta sul canale Sto parlando di Dead by Daylight, è un gioco in prova gratuita per alcuni giorni, infatti scadrà circa un paio d'ore È da ieri che ci nerdo un po' su e sono riuscito a fare salire un paio di personaggi di livello Ma di che cosa si tratta? È un gioco PvP in cui si affrontano un killer contro 4 sopravvissuti Lo scopo del killer è di uccidere tutti i sopravvissuti Lo scopo dei sopravvissuti invece è di fuggire attivando tutti i generatori e quindi sbloccando le uscide prima che il killer li faccia completamente fuori Però c'è da dire una cosa, che questo gioco, anche se in teoria sembra molto bello, nella pratica è un attimo sbilanciato Perché per il killer è più semplice vincere rispetto ai sopravvissuti Quest'oggi la mia intenzione è di portarvi due partite, una dal punto di vista del killer e l'altra dal punto di vista dei sopravvissuti Eccoci qui, col mio killer prediletto Lo spettro Sperando che questa sia la volta buona Per capire cosa intendo guardate il bonus che metterò a fine video Quindi il nostro compito è di ammazzare tutti i sopravvissuti Per trovarli la cosa più semplice è fare la ronda intorno ai quei cosi rossi che sono i generatori di luce per scovarli perché loro devono riattivarli Poi quando si insegue un innocente Lui lascia dei graffili a terra che io posso seguire per trovarlo Ed è esattamente quello che sto facendo No, l'ho persa Maledizione L'ho persa Vabbè, capita Tipo qua c'è qualcuno È stato semplice, non era tanto bravo questo Va bene Agganciamolo Vi devo avvisare, questo gioco è abbastanza violento Ok, là qualcuno ha fallito La sua prova Perché ci sono delle probabilità da superare per Per sbrigarsi E se vengono fallite mi rivelano la posizione dei giocatori Dove sei andato? Guarda che ti trovo Infatti Eccolo qua Lui spera di distrarmi Maledetto Lo odio Questi sono il genere di giocatori cancerosi Ecco, non sei riuscito ad usare il bancale Te lo meriti Ora questo qua lo controllo Non faccio più il killer buono Che se ne va Perché insomma La parte del killer è facile No Lo sto a controllare finché non crepa Non ce l'ha fatta vedo eh Ma quale gancio la portiamo? Ce n'è uno lì E due Rompiamo un po' Perché si possono danneggiare i generatori che loro cercano di riparare Ah ma io ti vedo Sei quello ferito E lo lasciamo a terra Questa è la mia strategia Perché quando rimane una sola persona in vita Si apre una botola oscura Tramite cui si può scappare direttamente E poi diventa un problema Perché appunto i sopravvissuti possono scappare senza il mio controllo Quindi quello lì lo lascio a terra invece di appenderlo al gancio Per cercare l'ultimo sopravvissuto È un po' una tattica da stronzi È però Voglio vincere Però ovviamente bisogna sempre controllare anche la persona che è rimasta a terra Perché i sopravvissuti potrebbero Non potrebbero Sicuramente si vogliono aiutare a vicenda E quindi potrebbero curarlo Quindi devo sempre sorvegliare anche qui la zona E tentare di scovare l'ultimo sopravvissuto Che a quanto pare si sta nascondendo invece di aiutare il suo compagno Sembra È da un po' che giro ma sta persona non si vede proprio Quindi credo che la sua tattica sia di Aspettare che muoia il suo compare Abbandonarlo al proprio destino come un vero stronzo E poi scappare nella botola segreta Probabilmente l'avrà anche già trovata Casualmente perché si può soltanto trovare casualmente Posso guardare qua perché si possono nascondere qua Ma ce n'è decine e decine in tutta la mappa Cioè è impossibile trovarlo così facilmente No l'ha curato Ce l'ha fatta Cavoli Chapeau Non mi resta che trovarli Eccolo lì È lui che voglio uccidere per primo Perché il vecchietto è un po' più nabu Guarda come corre veloce Dai È un colpo Ti pare che non le vedo le tracce di sangue Uno e due Come un certo Darsley disse Giustizia Ok Non è proprio giustizia Perché io sono un serial killer Che sta commettendo crimini atroci Ma Dal mio punto di vista Oh guarda la botola La botola Bing 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 Ok è stata una partita un po' atipica Ma comunque giocata E ora direi di passare quindi a provare Con il sopravvissuto Vedere se si riesce a vincere una partita con quello Eccoci qua Con la mia sopravvissuta preferita Claudette Morel Perché lei ha capacità di cura molto interessanti E mi sono portato come attrezzo La cassetta degli attrezzi In questa mappa non l'ho mai giocata Strano Vabbè Mi è sembrato di sentire cantare Magari mi sbaglio Comunque il nostro scopo è di trovare un generatore da aggiustare Tipo questo Quando li avremo aggiustati tutti e cinque Come dice l'indicatore In basso a sinistra Potremmo aprire le porte di fuga Ovviamente il killer non se ne starà Li fermo a guardare Quindi Facciamo le prove bene Perché non ci scopra E già uno è stato ferito Molto bene Opla Ecco È stato appeso a un gancio E dalla posizione mi sembra anche un gancio Sotterraneo Quindi effettivamente potrebbe essere La Oh fuck La cacciatrice Perché la cacciatrice ha dei bonus Se appende la gente nei ganci Nel suo covo Cacchio 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 Devo sbrigarmi Su Veloce Perché vi dicevo della cacciatrice Perché la cacciatrice ha una maledizione particolare Che è la nina nanna Lei canticchia Rendendo più difficile Affrontare le prove Primo fatto Ah è rimasta là la cacciatrice Guarda che stronza Vuole Aspettare che quello muoia E anche il secondo è fatto È un po' stronza nei confronti di quel giocatore Però almeno ci facilita la vita Ah fuck Sì ovviamente continuo a dire cacciatrice Perché ho forti sospetti Sia lei è il killer Ma non è che non ho la certezza Ancora non l'ho vista Oh fuck Ecco ora verrà qui Sicuramente 3 2 No Ciao Ma vaffanculen Era la cacciatrice E aveva ragione Mi ha ferito Vedete lei lancia le accette Che è un'abilità stronza Maledizione Maledizione Mi ha preso Però non ha il tempo di portarmi nel seminterrato Spero Infatti Però ti prego Non aspettare qua Fammi giocare Per favore No guarda Sta aspettando lì È stronza Sapete che probabilità c'è Di riuscire a fuggire Il 4% Il 4% di probabilità Cioè ho avuto un culo Che madornale Dire poco Solo che mi sta dietro Questa Dai che forse la semino Dai 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 Forse ce l'ho fatta Ora io mi nascondo qui E mi curo Perché è un'abilità carina di Claudette Morel Che si può autocurare Anche senza il kit medico Per questo mi piace molto Scusate se parlo così Ma sono molto in ansia Moltissimo Ma tanto assai Se vedeste le mie gambe sotto il tavolo Sembrerebbe che io stia ballando il Tip tap Ve l'assicuro Qua c'è il suo Non voglio stare vicino al suo Covo Perché se mi butta là dentro Col cazzo che scappo Io mi avvicinerei qua E continuerai a riparare questo No Ha preso qualcuno Cacchio Sì Continuiamo così Opla Dai ripariamo Ripariamo in fretta Che l'ansia sale Che l'ansia sale Perché non so Se quella lì Stali ferma Ad osservarla Oppure sta venendo A cercarmi Opla Altro test superato Eh però Fortunatamente mi è capitata Una bella partita Al primo colpo Con i sopravvissuti C'è quell'ansietta Lì Che Che ha ansia forte Però almeno è una Ansia sana Non facciamoci vedere Spostiamoci in un'altra Parte della mappa Però quel generatore È quasi Riparato Me lo devo ricordare Fuck Siamo rimasti Soltanto in due Ora la situazione Si fa Alquanto complessa Ma perché sembra Che stia giocando solo E quindi Devo trovare Un generatore Da riparare Un po' come questo Madonna Questo è all'inizio Si sta avvicinando Ma non so di preciso Da quale direzione Eccola là E si fugge Da questo lato Ovviamente Non c'è musica Appunto per questo motivo Perché l'audio È estremamente Importante In questo gioco Quindi Voglio che anche voi Lo sentiate alla perfezione Ma perché Sono solo a giocare L'altra persona Cosa sta facendo Esattamente Si è nascosta In qualche armadietto Probabilmente L'ho messato Per pochissimo Riesco a tornare A quello che c'era là Lo posso finire Di riparare Guardate Quanto poco manca Eccolo lì Il killer Un'abilità bellissima Che ha Claudette Morelle È che Quando riparo Un generatore Per 5 secondi Vedo l'aura del killer Quindi vedo Dov'è Che distanza Eccetera 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 No Ha ferito anche l'altro Sono rimasto tipo solo Perché quello come cacchio Fa a fuggire ora Quindi Ora riesco a riparare Anche gli ultimi Generatori Io devo trovare La botola segreta Però è riuscito a fuggire Questa persona Uh Qua c'è la botola Grandissima Mi devo ricordare Che è mezza steroce È vicino alla pagoda Fammi ti aiutare Però ho trovato Una cassetta Dicevo Che ho trovato Una cassetta Degli attrezzi Quasi nuova La cacciatrice Era molto vicina Infatti mi ha dato Pure coraggio È vicina È vicina È vicina È riuscito a fuggire È riuscito a fuggire Bisogna riparare questo Che è praticamente rotto E mi sono distratto È di là Quindi me ne vo di qua Con tutto sto casino Però si fa fatica A sentire la ninna nanna Meno male che è quasi finito Yes Via Fuggi 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 mia prode Ce la possiamo fare Manca un solo generatore E tale persona Sembra che non faccia Una sega Lì c'è un generatore Ma è fottutamente In bella vista Però ci devo provare Se ricordo bene Ne rimangono tre Alla fine Nel senso che ci sono Soltanto due generatori In più Ecco sto da solo Meno male che io ricordo Dov'è la botola oscura Dovevo andare Dalla pagoda Qua Eccola Quindi basta che aspetto La sua morte E mi ficco là dentro Perché col cacchio Che provo a riparare Un altro generatore Con quella che mi cerca Quando ci sta a morire Mori in fretta Per favore Guardala come provo a scappare Brava 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 Muori Veloce Io non ti posso salvare Sono da solo E quella mi prende Brava in seguire Prima sono scappato Davvero per miracolo Mi ficco dentro la botola E ciao Partita vinta Yeah Su Muori Muori Veloce Sto anneggiando un po' troppo Dimmi che si apre Apriti Perché sennò Sono fottuto Se non si apre Sì Ciao Ne Con questo gioco Altamente Anziogeno Oggi è davvero Tutto Non ve lo riporterò Semplicemente Per il motivo Che vi ho detto All'inizio Ovvero che è un gioco Gratuito per un certo Periodo di tempo Ed ho deciso di non Comprarlo Perché ho notato Che in endgame Cioè Quando si arriva A un certo livello Ci sono sempre Giocatori O troll Che rompono le balle Uno si scoccia O giocatori Che sono davvero Esageratamente forti Quindi non si riesce A far nulla Ricordate di Passare Dal bonus Che lascerò a fine video E ricordate sempre Di dare rettemi Due giumellini Lasciate mi piace Iscrivetevi Lasciate un commento Se volete comunicare con me E per questo video È tutto Grazie a tutti Grazie a tutti